Come state? Ci stiamo cuocendo? No, ancora no. Va bene. Allora proseguiamo nel nostro ascolto, nella nostra preghiera, con l'ascolto del loro polifonico canto libero che viene dall'Ona, vicino a Tetti, diretto da Maria Luisa Manno e ci carteranno a gentile avvertire. Buona scuola. 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 Alleluia 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 Ora, prima del cantico delle altre alture, proseguiamo con la consiglieria di attestati, con un passo al microfono alla Francesca. Grazie a tutti, e adesso consiglieremo l'attestato di partecipazione a manifesto, però, siccome è più comune, ci aiutiamo, ci aiutiamo moltissimo in questa manifestazione. So che c'è la prezzettina a Martina Massini, ecco, se può venire così, grazie di essere venuta vicino al sindaco e tutta l'amministrazione comunale, così ne facciamo dare gli attestati. Bene, allora chiediamo, ce l'abbiamo qui, la maestra Francesca Maria Saraglini e la consegniamo, l'organista che accoglierà Andrea, che accoglierà la testata. Grazie a tutti, grazie a tutti. Corale Santa Rita, da Caccia, diretto da maestro Rita Martucci. Grazie a tutti. Buono città, di Piero Domenico Stella, di Sanseportro, diretto da Imaese. Di Piero Domenico Sanseportro, di Piero Domenico. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.